Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Mareggiate sul tirreno cosentino in costante lavoro la protezione civile, il presidente Oliverio ha predisposto per tutta la giornata odierna dei sopralluoghi per fare la conta dei danni. La politica ha abbandonato questo territorio da almeno 15 anni, queste le parole esasperate del sindaco di Rogudi. A Montalto Urfugo prende il via il progetto Leggere per Ballare. Belvedere Marittimo ha conferito il premio Donna 2018 a Miriam Pugliese della cooperativa Nido di Seta. Vibo Valencia per il 26esimo anno consecutivo si prepara a vivere le giornate fai di primavera 2018. Il Borgo di Civita nel Cosentino punta sullo sport per la valorizzazione della zona. L'associazione KerrySaf ha organizzato un incontro a Cosenza sulle differenze di genere nello sport. Sulla grave situazione in tutto il territorio catanzarese e cosentino, la protezione civile regionale già all'opera da ieri mattina con personale e mezzi propri, con gruppi di volontariato per portare i primi soccorsi alle popolazioni colpite dalle mareggiate. La protezione civile regionale, inoltre lavorato per tutta la notte, sta continuando in queste ore. Il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, sta seguendo l'evoluzione della gravissima situazione e ha dato disposizione affinché in tutta la giornata l'assessore Roberto Musmanno, accompagnato dai tecnici, facciano un immediato sopralluogo nelle zone colpite per una ricognizione e incontrare sindaci, popolazioni e operatori economici. Dopo i sopralluoghi che saranno effettuati nella giornata odierna, un gruppo di coordinamento della Giunta regionale farà un'esatta valutazione sugli interventi da compiere sia per quanto riguarda il monitoraggio dei danni che il ripristino delle condizioni viarie di sostegno alle attività economiche così duramente colpite. Un uomo è stato investito da un treno regionale diretto a Reggio Calabria. È accaduto ieri sera a circa 200 metri a sud della stazione di Belvedere Malittimo sulla linea ferroviaria tirrenica nel Cosentino. Il traffico sulla linea Sapi-Paola è stato evidentemente sospeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria. Si tratta di un cittadino tedesco di 52 anni che stava camminando con lo zaino in spalla a fianco ai binari. Evidentemente a causa del maltempo non ha sentito sopraggiungere il treno ed ha avuto purtroppo la peggio. L'allarme è stato dato dal macchinista del convoglio che ha detto di avere sentito un urto ma senza rendersi conto di cosa era successo. Solo dopo le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere lungo la linea ferroviaria. E cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo nel Regino, precisamente a Rogudi, dove il primo cittadino ha raccontato ai nostri microfoni i continui disagi che vive la cittadina. Siamo con il sindaco di Rogudio, il signor dell'area greganica della provincia di Reggio Calabria. Non c'è pace in questo territorio, tutto viene smantellato, tutto viene portato via. La politica dov'è? La politica è assente. In questo territorio ormai è assente da circa vent'anni. Sono vent'anni in cui paghiamo il prezzo di non essere stati in grado di organizzarci politicamente nel senso alto del termine. Questo territorio ormai da quindici anni circa non esprime nessun parlamentare, nessun consigliere regionale. È evidente che la chiusura dei reparti dell'ospedale di melito, piuttosto che gli uffici giudiziari. Oggi registriamo anche questa volontà di chiudere l'ufficio veterinario. Hanno portato al livello minimo, diciamo, il livello di democrazia, anche il livello di assistenza e di servizi al cittadino. Infatti, nominando il servizio veterinario, voglio ricollegarmi a una battuta, a una nota stampa che ho inoltrato un po' a tutti i sindaci, all'ASP-RC e anche agli organi di stampa, in cui titolavo non c'è pace, tra parentesi ho messo né salute né anche per gli animali. Dal primo aprile, sperando, ho detto in questo comunicato stampa, sperando che non si tratti di uno scherzo del cosiddetto pesce d'aprile, anzi sperando che si tratti del pesce d'aprile in questo caso, sarà chiuso anche l'ufficio di Melito e, diciamo, i servizi che convergevano su questo ufficio di Melito saranno concentrati a Gallico Superiore. Per cui l'allevatore di Bova Superiore, di Roccaforte, di Brancaleone, di Palizzi, di Melito, di Montebello dovrà recarsi a Gallico Superiore quando a 2, 3, 5 chilometri aveva un servizio, diciamo, per quanto concerne anche la logistica, per quanto concerne la burocrazia che sta a monte, molta burocrazia che oggi sta a monte nel processo dell'allevamento degli animali. Per cui questa è un'ulteriore battuta del resto, non è ovviamente il punto principale, il gap principale che noi paghiamo nei confronti degli altri, diciamo, degli altri territori. Però è evidente che è un crescendo di iniziative che il Governo centrale, la Regione e la città metropolitana, costretti dalla mancanza dei fondi, piuttosto che da iniziative balzane e malsane, diciamo, degli amministratori che non in modo poco lungimirante riescono a vedere una città metropolitana così come era stata annunciata, policentrica, la vedono insomma regiocentrica e anche, diciamo, senza nessuna prospettiva per il futuro, chiaramente ci vedono, diciamo, ripeto, appunto, fanalino di coda di questo territorio. Una fusione fra la lettura e la danza che coinvolge molti giovani. Si tratta di un progetto che è stato presentato nel Cosentino. Dalle pagine di un libro, a teatro, si chiama proprio Leggere per ballare, il progetto promosso a Montalto Fugo, a cui prendono parte gli istituti comprensivi della cittadina facente parte dell'area urbana di Cosenza e cinque scuole di ballo. Perché dalla lettura di un libro si passerà poi a portare sul palcoscenico la storia contenuta nel testo che gli studenti andranno a leggere. Le scuole si crea il progetto, quindi si fanno delle coreografie. In funzione del libro, che le scuole fanno leggere ai ragazzi. Quindi i ragazzi vengono già preparati in teatro per quello che sarà lo spettacolo, trasformato in coreografia. Quindi subentra questo connubio fra lo studio scolastico e lo studio della danza. Quindi un progetto molto ambizioso. quest'anno per la prima volta l'abbiamo a Montalto. Avremo tre spettacoli, due matinè e un serale. Più o meno siamo intorno alle 1300 persone che assisteranno a tutte e tre gli spettacoli. Penso che sia una cosa molto importante proprio per il coinvolgimento che c'è delle persone del grande capitale umano, ovvero l'istituzione scolastica con i ragazzi che frequentano le scuole, le scuole di danza, con tutti i ragazzi che frequentano le scuole di danza. Quindi c'è un percorso, io penso, continuo e a filo diretto tra quella che è l'attività scolastica con quella che è l'attività poi anche formativa, se così si può dire, dal punto di vista sociale. Il premio Donna 2018 è stato conferito dal CIF della sezione di Belvedere Marittimo a Miriam Pugliese, giovane ediatrice della cooperativa Nido di Seta di San Floro di Catanzaro. L'ha intervistata per noi Fabrizia Arcuri. Io ho visto nella nostra terra di Calabria il mio, il nostro futuro. È detto da una ragazza giovanissima, ha un messaggio ancora più alto. Sì, è un messaggio molto importante per me, dire il vero. Io sono solo nata in Calabria ma sono cresciuta nel nord Italia e tornavo sempre con grandissima gioia in questa terra meravigliosa. Non avevo mai pensato che alla fine avrei costruito completamente il mio futuro perché dopo tanto giro gavare tra nord Italia e Germania il mio pensiero fisso era di tornare in Calabria e qua abbiamo costruito Nido di Seta. Nido di Seta è veramente una storia d'anore verso la nostra terra e verso le nostre origini. Partendo da un giusteto abbandonato abbiamo creato quella che è oggi una bella attività in cui conta solo l'anno scorso abbiamo portato 6.000 persone a visitarla con turisti veramente provenienti da ogni angolo del globo. Quindi una grande soddisfazione e come dicevo prima una grande storia d'amore. La nostra rivoluzione parte proprio da questo, da un piccolo bacco da seta. La nostra rivoluzione è partita come appunto si accennava dal bozzolo di seta, un involucro che contiene quasi due chilometri di filo che è il filo più prezioso del mondo. Quindi perché non fare di questa tradizione la nostra ricchezza? Perché non costruire il nostro futuro proprio su questo elemento? E noi abbiamo preso uno dei mille tesori che sul nostro territorio calabrese c'è ma in realtà ci sono mille diversi bozzoli di seta e il mio augurio per le prossime generazioni e appunto di cogliere questi elementi che fanno parte della nostra terra e trasformarle in una risorsa. C'è un doppio significato che possiamo trovare nel fuso? Perché il fuso rappresenta quella che è non solo la realtà degli antichi mestieri ma anche l'emancipazione femminile? Il fuso è uno degli elementi emblematici dell'emancipazione femminile perché se uno fa solo una piccola ricerca storica, specialmente in Calabria, trova negli archivi che le donne erano o filatrici o contadine. Noi possiamo dire che anche la storia della nostra emancipazione oggi è legata a questo simbolo poiché oggi, ancora oggi, noi ritorciamo la seta con il fuso e non lo facciamo solo noi. Abbiamo creato una rete di artigiani e artigiane soprattutto che consente di creare una piccola rivoluzione dal basso consentendo di creare nuovi sviluppi economico-sociali. Quindi evviva il fuso e evviva la seta! Vibo Valencia si prepara a vivere le giornate FAI di primavera del 2018 che prevedono percorsi paesaggistici e culturali. Da 26 anni i volontari del FAI di tutta Italia nel primo weekend di primavera si mobilitano per far conoscere i beni culturali del nostro paese, soprattutto quelli poco noti o che non sempre sono visitabili. Anche la delegazione di Vibo Valencia partecipa a questa grande festa con un programma sempre ricchissimo di avvenimenti ed estremamente vari, in modo da incuriosire il maggior numero di persone possibile. Quest'anno la delegazione ha deciso nella sua programmazione di fare due percorsi, uno dedicato alla grande guerra, quella del 15-18, perché con il 2018 si concludono i ricordi del centenario. E l'altro invece è dedicato al cibo, perché il Ministero, il Mibact e il Ministero delle Politiche Agricole hanno dedicato il 2018 al cibo. Cosa farà la delegazione? Cosa aprirà? Aprirà per la grande guerra l'aeroporto, che sarà un'apertura eccezionale solo venerdì, grazie alla disponibilità dell'arma dei carabinieri. Aprirà poi il convitto nazionale, il Real Collegio Vibonese, perché da quella scuola sono partiti moltissimi giovani, soprattutto i ragazzi degli ultimi due anni, e non sono più tornati. E da quella scuola è uscito pure il famoso Capitano Cremona, a cui è stata dedicata la poesia di Ungheretti, il Capitano. Faremo visitare anche il Parco delle Rimembranze, non potevamo non farlo fare, perché questa oasi di pace è creata per ricordare i soldati che sono morti in guerra. Ogni albero è dedicato ad un soldato morto in guerra. Faremo poi, in modo eccezionale anche, l'apertura della Sagrestia Ligna e faremo visitare nel Parco, perché è lì presente, il Tempio di Persefone. Il secondo percorso invece è dedicato al cibo. E da qui partiamo con il Tempio di Demetre Core, in località Cofino, dedicato appunto alla Dea delle Messie. Poi scenderemo al convento dei Domenicani, oggi Valenzianum, e lì avremo anche un'apertura eccezionale, addirittura fuori programma, perché ci è stato concesso dal parroco proprio negli ultimi giorni, il programma era stato già stampato, del Museo del Duomo. Avremo quindi la possibilità di visitare le meraviglie che ci sono all'interno del Museo del Duomo nei due giorni delle giornate di primavera. Sempre all'interno della Valenzianum è in programma una mostra di artisti vibonesi, una mostra particolare intitolata Vestiti di Gusto, fatta dall'Istituto Professionale Prestia, cioè dei modelli, dei bozzetti di vestiti fatti però con prodotti alimentari. Una particolarità, il cibo e le eccellenze del territorio. Abbiamo avuto la disponibilità di Confindustria e dello Slow Food e avremo dei prodotti in esposizione e anche da assaggiare dei prodotti di eccellenza del territorio, grazie appunto ai due che si sono resi disponibili. Apriremo comunque il venerdì pomeriggio con l'inaugurazione della mostra al Valenzianum alle 16 e alle 18 con la conferenza stampa sul cibo dall'antichità ad oggi. La valorizzazione dei territori passa anche dalle manifestazioni sportive, ne sono certi gli amministratori del Borgo di Civita nel Cosentino. Se da una parte la due giorni di VTKA è stato un momento sportivo significativo, dall'altra è stata una vetrina importante per il Comune di Civita che ha avuto la possibilità di mettere in mostra le proprie bellezze artistiche e naturali e di gemellarsi ancora una volta con l'Albania. Il territorio si muove e viene a vedere anche Civita come aspetto non soltanto più enogastronomico e turistico, è proprio anche quello che cominciamo a dare segnali di servizi diversi ed è quello che diciamo come amministrazione volevamo creare. E questi appuntamenti, così come il prossimo per il 20 luglio vogliono fare a Civita un congresso regionale del CONI, quindi anche questo sarà un'altra tappa da mettere a suggello di quello che sono le nostre attività amministrative comunali, nel senso che l'esperienza di essere parte di un territorio integrante come quello del Pollino, secondo me fa sì che tutta la rete del Pollino ne possa trarne benefici. Eventi dunque capaci di generare un indotto importante ed è per questo che, archiviata la due giorni, il mondo VTKA si è già posto un obiettivo decisamente ambizioso. In futuro, questo è l'auspicio che ci diamo, vorremmo che sia Civita, Castrovilla, Rimorano, cioè tutto l'Interland possa ospitare, me lo auguro, ce lo auguriamo, i campionati mondiali. Io mi auguro che ci dia l'opportunità di poter fare questi campionati mondiali e dare una svolta al nostro territorio, perché vi do dei numeri, abbiamo fatto i campionati mondiali a Marina di Massa, 5.000 atleti accompagnati dai genitori, quindi 5.000 atleti, speriamo che con l'aiuto dei sindaci si possa arrivare a far questo. Le differenze di genere nello sport se ne è discusso in un convegno a Cosenza promosso dall'Associazione Sherry Saf. Anche tra le società sportive si è avviato ormai da tempo il dibattito sulle disparità di genere. Presenti anche in questo settore se ne è discusso con una serie di testimonianze a Cosenza in un convegno promosso dall'Associazione Sherry Saf dal titolo Ruolo della donna tra passione ed agonismo. L'Associazione Sherry Saf ha organizzato questa serata convegno al fine di dare un ruolo nel campo dello sport anche alla donna che ha sempre avuto un ruolo svantaggiato in quanto donna, in quanto questo sport è sempre stato appannaggio maschile, è sempre stato un'area dedicata solo al mondo degli uomini. Ecco che la Sherry Saf vuole mettere in evidenza anche la figura della donna perché come ci diceva la dottoressa Francesca Stancati ci sono delle atlete bravissime addirittura che vengono semplicemente definite dilettanti e questo non va bene. Allora abbiamo deciso di fare rete quindi e coinvolgere persone che sono dei professionisti nel campo dello sport come Pierfrancesco De Napoli, presidente dell'USA Acli, Stefano Muraca, presidente della Paralimpica e altri personaggi che abbiamo invitato per dare un obiettivo, per dare un progetto da sviluppare al fine che la donna possa imporsi anche nel campo dello sport. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo come di consueto di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it per essere continuamente aggiornati di quanto avviene in Calabria. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.